Abbigliamento e accessori consigliati Anche se non è obbligatorio, per una condotta sicura, è sempre consigliato, prima di salire in sella alla bicicletta, indossare casco protettivo che preserva in caso di incidente, occhiali e scarpe basse e consola antiscivolo. In ore notturne o condizioni di scarsa visibilità, un giubbino rinfrangente o le bretelle retro riflettenti ad alta visibilità, obbligatori fuori dai centri abitati. Abiti idoni alla condotta con cui non si corre il rischio di rimanere impigliati nelle strutture della bicicletta.